Amici miei, sono felice, sono felice, che siete tutti qui con me, dillo, tutti con me. Che nome date alla vostra bambina? Chantal. Per Chantal, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Il battesimo. Cari genitori, chiedendo il battesimo per vostra figlia, voi vi impegnate a educarla nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? Siete consapevoli di questa responsabilità? Chantal, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Occhi belli come tuoi, giuro che al mondo non avevo visto mai. Da quando sei nata tu, hai reso più felice questi giorni miei. Papà ti pensa in ogni istante, anche se a volte sta lontano e senza te, ma poi quando torno a casa, un vero l'ora esastra, il mio rivolto a te. Ti amo sai, amore che non può finire mai, ti amo perché tu sia figlia mia e tu sia vita mia. Tu sei l'amore di papà, tu sei la gioia di mamma, quanto ti amiamo tu non puoi immaginare. Quanta emozione hai dato a me, quando ti ho vista nascere e quando un giorno crescerai, avrai chi ti proteggerà. Sarai il tuo papà, nessuno male ti può fare, per sempre giuro ci sarò, perché ti amo e t'amerò, poiché sia figlia mia e nuovezza e vuoi immaginare. Occhi che mi danno forza per andare avanti nella vita mia, tu che riesci a dare gioia, con un tuo sorriso e un tocco di allegria. Ma cosa sei? Senza di te giuro che non vivei, basta guardare dentro gli occhi tuoi per dare vita ai miei. Tu sei l'amore di papà, tu sei la gioia di mamma, quanto ti amiamo tu non puoi immaginare. Quanta emozione hai dato a me, quando ti ho vista nascere e quando un giorno crescerai, avrai chi ti proteggerà. Sarai il tuo papà, nessuno male ti può fare, per sempre giuro ci sarò, perché ti amo e t'amerò, poiché sia figlia mia e nuovezza e dormire. Gesù ci insegna che la preghiera è l'arte attraverso cui si impara a conoscere Dio e a riconoscerlo quale padre. Quando pregate dite padre, perché il Signore continua ad effondere l'abbondanza del suo spirito, così come tra poco lo effonderà per la prima volta nella vita di Chantalle che riceverà il battesimo. Quanta emozione hai dato a me, quando ti ho visto nascere e quando un giorno crescerai, avrai chi ti proteggerà. Sarà mamma e papà, nessuno male ti può fare, per sempre giuro ci sarò, perché ti amo e t'amerò, poiché sia figlia mia e ti proteggerò. Grazie tutti alla festa!